Ciao ragazzi, benvenuti nel primissimo combattimento all'arena di Spectacle Island, appena costruita ma ancora molto work in progress. Abbiamo Cade all'angolo blu contro Preston all'angolo rosso. Combattimento iniziato da pochissimi secondi. I due nostri compagni stanno affrontando a viso aperto. Preston prova ad andare verso la porta per scappare all'esterno. Ecco, e scappa all'esterno infatti. Cade con la sua doppietta dove vuole andare da lì. Dicevo molto work in progress ragazzi perché, a parte che mi sembra ancora un po' spoglia così. E là invece ho in mente una cosa che non so neanche se uscirà mai come l'ho in mente. Però ci proveremo. Comunque richiederà veramente tantissimo tempo. E questa invece è quella che ho costruito e ci ha voluto parecchio tempo anche per questo comunque. Tra questo e l'altro discorso. Cavi e tutto insomma. Sono andati all'esterno, scendiamoli all'esterno. Kate è ferita. Ok, quindi Preston vince 1-0 ragazzi. Preston ha vinto 1-0. Questo primissimo incontro. Vogliamo fare la rivincita? Facciamo la rivincita. Facciamo la rivincita. Vai ragazzi, entrate. Non chiedo molto. Una bottiglia piena e qualche osso da rompere. Vieni Kate, vieni. Vai. Aspetta. Vai ragazzi. Ricombattono subito. Vediamo se rimangono dentro l'arena stavolta. Dunque ha vinto Preston 1-0. Se vince Preston ovviamente finisce qua. Altrimenti ci vuole la bella. Si affrontano proprio a viso aperto. Addirittura corpo a corpo. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Ora inizia a farmi incazzare. Preston assacca con Molotov e Moschetto addirittura. Kate si rifugia dietro la porta. Kate combatteva. Combattiva e combattente tra l'altro. Niente. Kate non mi fare così eh. Con quella collisione. Ah ecco. Io addirittura davo Kate come favorita. Davo Kate come favorita. Se ce lo possiamo gustare un attimo se dunque. In tribuna rossa. Perché c'è anche la tribuna. C'è curva nord e curva sud. No ovviamente. Bello. Bello. Kate come l'ha buttato giù. Ragazzi se le danno eh. Se le danno di santa ragione. Avevo una sorpresina ma la tengo per il prossimo video. Anche perché è meglio che la provo prima. Perché non vorrei che esca fuori un obrobrio. Visto che non l'ho ancora provata la cosa. Qui è tutto libero. Niente. Ha vinto Preston un'altra volta. Preston batte Kate 2 a 0 ragazzi. Quindi in questo primissimo incontro. Del torneo ufficiale di Spectacle Island. Preston batte Kate 2 a 0. Quindi uno in schedina. Ok ragazzi. Questo era il mio primissimo incontro. E anche il vostro primissimo. Per chi segue i miei video. Quindi. Ci sentiamo al prossimo incontro. E al prossimo video. Dall'arena è tutto. Bye bye. Dall'arena è tutto.